eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri ragazzuoli e ragazzuole belle vi saluto vi abbraccio tutti ma si vi mando un abbraccio tutti ma è ovvio che vi mando un abbraccio a tutti no ormai siamo veramente come una grande famiglia come una grande comunità del vostro alex cuore rosso nero 2.0 allora ragazzuoli belli ragazzuole belle andiamo un po alla ciccia del discorso però prima i saluti vanno seguiti dalla testimonianza di che ora registro questo video che le notizie sono sempre belle fresche sono le ore cosa fa che scherzo questo qui sempre con i raggiungimenti degli obiettivi sono le ore 19 e 20 di questo venerdì 10 marzo 2023 sì gli obiettivi li ho raggiunti ma per forza li ho raggiunti caro apple watch li ho raggiunti perché mi faccio sempre un mazzo così tutti i giorni grazie al cavolo se non gli aggiungo io gli obiettivi chi li deve raggiungere allora ragazzuoli belli ragazzuole belle parliamoci molto chiaramente lo avete già visto in copertina ovviamente l'uomo di questa copertina di questo video è raffa leao raffa leao sembra che sembra che abbia una pretesa un po salata per il milan e questo più che altro allora è un mini video anche questo per cui non un video intero lungo come solito che vuole essere anche però un video un po sondaggio infatti dopo vi chiederò di scrivermi qui sotto cosa ne pensate se ne hai voglia di scriverlo quello che pensi ovviamente però io adesso non è che vi voglio influenzare voglio essere fazioso nei nostri dei vostri confronti però vi devo leggere quello che costa curta ha dichiarato dopo tottenham milan sulla partita di leao chi ha visto il mio video reaction che è stato caricato in ritardo perché ho avuto problemi caricamenti dopo tottenham milan lo sa che io ho subito detto che leao proprio mi ha fatto proprio ribrezzo ribrezzo per essere gentile no costa curta sky aveva detto questo sulla partita di leao con il tottenham peggiore in campo l'uomo in meno fino all'ottantaduesimo vero è stata la grande delusione della serata vero credo debba essere determinante vero abbiamo avuto campioni che facevano valere il titolo dei campioni e questa sera ha dimostrato leao di non essere chiamato campione pesante è stata abbastanza pesante con questa curta però mio modo di vedere dice la verità per cui voi nel mio sondaggio io vi chiedo scrivetemi qui se leao per voi è un campione e se leao può pretendere qualsiasi soldone perché arriviamo un po a succo del discorso il sedicente scoop bisogna vedere se poi la notizia è fondata adesso in questo momento sembra e a mio modo di vedere se lo fosse realmente adesso io sono sulla notizia sto un po indagando è scandalosa cioè non la notizia che dà la gazzetta dello sport ma scandalosa la notizia di quello che pretende leao secondo la gazzetta dello sport praticamente maldini e massara hanno parlato con la famiglia di leao chi è la famiglia di leao i suoi genitori vabbè tra suo fratello e quant'altro sono i suoi genitori senza gli agenti attenzione e leao tramite i suoi genitori ha fatto sapere a maldini e massara che lui pretende ascoltate qualcuno di voi l'ha già letto sicuramente all'anno 7 milioni di euro e mezzo netti netti 7 milioni di euro e mezzo di euro netti va bene lui fa 7 e mezzo si può arrivare a 7 6 più bonus va bene ma udite udite alla firma leao vuole 2 milioni di euro scommettiamo che quei 2 milioni di euro vanno alla famiglia è una mia ipotesi è una mia fantasia comunque il ragazzo vuole questi soldi e adesso che vi ho dato questa notizia che l'avete già letta scrivetemi la vostra sotto cosa ne pensate allora devo fare una parentesi in questo momento lo sport in glisbona lo sapete no la sentenza adesso c'è un ricorso ma bisogna vedere se ribalterà bene la cosa quello che ho capito forse è difficile ci vedremo insomma la sentenza ha dato ragione al sport in glisbona lo sapete tutti che il sport in glisbona vuole 19 milioni di euro in parte da leao e in parte da lille il milan non è coinvolto in causa in questa cosa però c'è un'altra notizia che vi devo dire i 19 milioni di euro di sentenza contro leao e lille non sono più 19 milioni di euro udite udite con gli interessi cosa sono maturati nel frattempo a 21 e sembra che lo sport in glisbona sia contenti di 21 nel senso non pretende la maturazione di altri interessi futuri cioè non so fra un anno due anni non li pretendo si ferma a 21 milioni di euro faccia del cavolo e praticamente il concetto è questo cosa pretende leao ancora dal milan come dice costa curta che non è ancora un campione assoluto nel senso io ho un sospetto ma non è che leao non stia giocando non tanto per la penale che va pagata allo sport in glisbona perché la penale deve essere suddivisa tra leao e il lille ve lo voglio ricordare poi se c'è qualche avvocato del lille che vuole che io precisi questa mia affermazione lo richieda pure preciserò però questo è quello che si sa ad ora cioè la penale i 19 milioni di euro che sono maturati con gli interessi a 21 sono da pagare tra leao e lille ma non è che io ho solo un sospetto non è che la svogliatezza che ha ultimamente in questi ultimi tempi leao non è tanto per la penale ma proprio perché forse nella sua testa lui pensa io non voglio più giocare nel milan io voglio andare in un altro club che mi paga nettamente di più e lui fa leva sul fatto ascoltate il ragionamento che se al milan chiede 7 milioni e mezzo quando il milan offre 7 cioè 6 più 1 perché questo ormai è una certezza il milan offre 6 milioni di euro netti più 1 famoso bonus che ha vari motivi per essere chiamato bonus ma lui ne vuole 7 e mezzo fissi non è che lui fa leva su questa cosa per poi richiedere un altro club più di 10 milioni di euro e nel frattempo gioca maluccio e svogliato perché forse ipotizzo io vuol fare abbassare la cifra di vendita perché se il milan pretende 150 o comunque chiude tutto a 110 120 non c'è un club che tira fuori questi soldi leao l'ha già scoperto tramite mendes o il suo avvocato e dicono guarda che qua se giochi alla grande sarà difficile che qualcuno ti prende a quei soldi circa un attimino sto ipotizzando abbassiamo la cifra un'ottantina lo ripeto sto ipotizzando si può ipotizzare si può ipotizzare se dovesse essere vera questa ipotesi che io sto facendo sarebbe gravissimo gravissimo del comportamento del giocatore nei confronti del nostro milan lo ripeto lo ripeto per il centesimo volta questa è solo una mia ipotesi una mia fantasia però c'è qualcosa sotto che non mi convince ragazzi c'è qualcosa sotto che comunque costa curta alla fine della fiera la pensa come me e come tanti di noi allora faccio la suma mia personale e poi vi saluto voi siete pregati in questo specie di sondaggio comunque scrivete la vostra se voi volete tenere leao se è giusto a strappagarlo oppure giusto se ne vada piuttosto che io ve lo dico l'ho già detto in passato poco tempo fa fino a pochi giorni fa per me leao se ne deve andare se ne deve andare punto raffaele non me ne volere te ne devi proprio andare cioè proprio non ce n'è per me non ce n'è proprio te ne devi proprio andare però che tu non gioca bene da qui e lo vedremo se fino alla fine del campionato sarà così guarda tu faresti una figura amara che come dice costa curta come dice costa curta abbiamo avuto campioni che facevano valere il titolo dei campioni della parola campioni e questa sera ha dimostrato leao di non essere chiamato campione eccola la fine la figura che tu farai questa è la verità caro leao questa è la verità per cui adesso datti da fare fai il professionista e poi fuori dalle scatole senza nessun rancore senza nessun problema perché le persone gli uomini veri fanno così gli uomini veri professionisti fanno così tu fai il professionista quale sei fai bene il tuo lavoro fino alla fine stagione parli con mendes parli con l'avvocato fuori dalle balle alzare le tende e via e reinvestire i soldi per perché coi soldi di leao noi poi quegli altri soldi che adesso inchiassiamo c'è ampio sotto abbiamo la possibilità non dico di rifare mezza squadra ma almeno di prendere 45 giocatori veramente giusti questa è la verità per cui grazie di tutto e buona fortuna oggi poi è stata pubblicata una statistica tutti i milanisti che ultimamente compreso il tizio lì che ho pernacchiato ieri e anche quell'altro avevo firmo il signor donnarumma donnarumma il signor donnarumma se ne andrà la juventus ve lo firmo il signor che si sta arrivando all'inter quell'altro che si questo quell'ultimo che un altro che ha flopato la grande tutti quelli che vanno via dal milano da milano flop alla grande e sono contento per questo però insomma questo è quanto dai ragazzi che pretesa è quella di leao vi mando un abbraccio forza milan sempre comunque ovunque ci vediamo domani se c'è qualcosa qualche notizia interessante se no noi ci vedremo lunedì è sempre uno spettacolo ciao